Una giunta poco gradita è il nostro incarico. Leonid, accompagna gentilmente la signorina in carcere. Nel vostro incarico? Non avete la minima idea di quale sia il vero scopo di questa missione, vero ammiraglio? Signorina, chi lei sia o cosa lei sappia non mi riguarda. Se fossi a capo della nave potrei anche ascoltarla, ma sfortunatamente la mia situazione non mi consente questo privilegio. Se fosse così gentile da muoversi è tacere da brava ragazza. Entri dentro! State commettendo un grave errore. E lo sapete. Non aprite questa porta per nessun motivo. Avete capito bene? Grazie a tutti. 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 Motori a tutti. Grazie 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 a tutti.